Ciao a tutti, io sono Elena, questa Audiofilando. Oggi vi lascio un post-it, quindi prendete nota. Ogni tanto ritorno con i miei appuntamenti sui mobili dedicati proprio all'i-fi. Oggi sono molto orgogliosa perché andiamo in Italia, provincia di Pescara, a conoscere la SoliSteel, azienda produzione totalmente italiana. SoliSteel nasce nel 1990, per volere, di Moreno Conti, che sin da bambino ha respirato l'aria dell'azienda produttiva della sua famiglia, cioè la Conti, che era rifornitore ufficiale, niente poco di meno che della Ducati. Quando l'azienda familiare alla fine degli anni 80 chiude i battenti, Moreno, grande appassionato di musica e interessato proprio alla fedele riproduzione, inizia la sua produzione di mobili per i-fi. Inizialmente distribuisce i suoi prodotti ad amici, parenti, appassionati, conoscenti, fino a farne poi un'azienda vera e propria. L'azienda nel 2013 subisce una brutta battuta d'arresto per la prematura scomparsa di Moreno Conti, ma poi i suoi eredi, Gaetano e Manfredi, riprendono in mano l'azienda e ne fanno quello che è oggi. Sottolineo che sul loro sito, nella sezione dedicata alla storia dell'azienda, grande rilievo è stato dato a Dora, la moglie di Moreno, che ha sempre supportato e incoraggiato il marito in questa avventura. E questo lo dico con grande orgoglio perché le donne italiane sanno sempre cogliere le occasioni positive. Ma torniamo a noi e vediamo che cosa ci propone Soli Steel nel suo catalogo. Il loro catalogo si compone fondamentalmente di due macro linee. La prima che è la linea S più la nuovissima VL, la seconda è la linea Iper Spike, nata nel 2006, fiora all'occhiello dell'azienda. Iniziamo quindi con la linea VL, per gli appassionati di vinile è veramente una chicca. Un bellissimo mobile studiato per contenere il vostro giradischi, ma non solo, anche la vostra collezione di vinili. Cosa volete di più? Il telaio è lo stesso della linea S che vedremo tra poco, con montanti in alluminio anodizzato, riempiti di spugna, fonoassorbente per limitare il più possibile le vibrazioni. Dotato, come piace a me, di punte e sottopunte, lo sapete che mi piacciono moltissimo. I ripiani sono in MDF rifiniti in laminati polimerici. Finitura solo noce per questo prodotto. Abbiamo tre composizioni di modulo differenti, con la possibilità di espandere ulteriormente lo spazio per i vostri vinili. Ogni ripiano porta fino a 120 kg. Niente male? Ora andiamo a vedere la linea S. Abbiamo la serie 2, 3, 4 e 5. Per tutte le serie abbiamo sempre la stessa struttura. Telaio in metallo zincato, viti tutte zincate per evitare l'arrugginimento in qualunque condizione, tubolari in alluminio anodizzato, come abbiamo visto, riempiti con spugna fonoassorbente per evitare le vibrazioni, poi punte, sottopunte, ovviamente regolabili in acciaio inox. Ripiani in MDF nobilitato e rifinito con laminati polimerici. Anche le serie della linea S sono disponibili in varie modulazioni, come potete vedere. Le serie S2, S3 e S4 portano su ogni ripiano rispettivamente 50, 60 e 140 kg. Come potete immaginare la linea S4 è stata pensata anche per il mondo audio-video. Veniamo alle finiture. S2 è disponibile solo in nero, S3 è disponibile in nero, bianco e finitura noce. S4 invece è disponibile solo bianco e nero. Ultima serie della linea S è la S5. È la più prestigiosa di questa linea, ovviamente, ma lo sapete, ogni tanto a casa audiofilando qualcosa arriva e siccome lo abbiamo qui, andiamo a vederlo da vicino. Eccoci qui, quello che abbiamo è un S5-3 perché ha tre ripiani. Vi dico già che dal vivo è davvero molto bello e molto ben rifinito. I materiali sono di qualità, esteticamente molto molto gradevole, particolari davvero curati. Non una vite a vista, come potete vedere. La targa del marchio sul fronte la trovo molto bella perché è discreta ma presente. Le finiture che ci propone Sony Steel sono questo che vedete qui, quindi Total Black, oppure abbiamo il bianco e le due versioni molto molto belle, Limited Edition, create per il trentesimo anniversario del marchio che sono le accoppiate silver nero o silver bianco. È possibile incrementare il numero dei ripiani successivamente all'acquisto, le altezze tra i livelli possono anche essere personalizzate. Quindi questo è molto importante per poter avere il mobile perfetto per le vostre elettroniche. La particolarità della linea S5, come potete vedere, è questo doppio ripiano. Lo trovo molto bello e adesso vi faccio vedere com'è composto. Abbiamo una mensola inferiore che fa da struttura collegata direttamente ai montanti e appoggiato sopra questo doppio ripiano, come vi dicevo, che vedete qua, che è amovibile. Sotto abbiamo due particolarità. Il primo elemento caratterizzante è questo foro centrale, che ovviamente si ripete in tutti i ripiani, che credo sia stata pensata dai progettisti di Sony Steel per alleggerire la struttura di base. La seconda caratteristica invece sono questi quattro appoggi per il ripiano superiore. Come potete notare, la linea S ha soltanto le punte per l'appoggio, mentre invece i montanti non hanno le punte per il disaccoppiamento tra i ripiani. Nella S5 hanno introdotto il disaccoppiamento dei ripiani attraverso queste basi d'appoggio, perché al di sotto, come potete vedere, abbiamo una punta piatta sopra, che consente ovviamente l'appoggio del ripiano, che si inserisce all'interno di una scanalatura che funge da sottopunta. Quindi io lo trovo molto bello e ovviamente molto utile. In corrispondenza di questi quattro appoggi, come potete vedere, il ripiano sotto è forato con una punta tazza, in modo tale da poterlo inserire in maniera perfetta e garantire la stabilità del prodotto. Come ho già detto sulle altre linee, la serie S è dotata di punte e sottopunte. Trovo molto carine le sottopunte della Soli Steel, perché sono leggermente più alte e infatti hanno un invito più profondo. Sono leggermente più alte, dicevo, di quello che normalmente siamo abituati a vedere nelle componentistiche di Mobile Hi-Fi. Abbiamo fatto una carrellata sui rack disponibili nella linea S, però la linea S ci propone anche due speaker stand. C'è la serie NS, che è pensata anche per i diffusori da home theater. Io la trovo molto carina, mi piace molto l'idea di questi cinque montanti che slanciano molto la figura di questo stand e anche un po' in stile neoclassico, ma molto accattivante e molto elegante. Poi abbiamo la linea SS, è fondamentalmente un treppiede, bellissimo. Io lo trovo molto originale, disegnato proprio da Moreno Conti, quindi il fondatore di questa azienda. La serie SS è disponibile in tre diverse altezze. Nella linea SS le punte possono essere anche svitate per permettere di riempire i montanti della struttura. Le piastre superiori sono in MDF, mentre la piastra inferiore della linea NS è in acciaio. E adesso passiamo ai modelli più prestigiosi di questa azienda, cioè alla linea Hyperspike. Questa linea si compone di cinque diverse serie. Quindi prima grande qualità strutturale di questi mobili, di questa linea, è il fatto che i suoi montanti sono torniti in acciaio inox, ma torniti dal pieno. Questo è davvero notevole. Ripiani sempre in MDF, rifiniti con laminati polimerici di alta qualità. C'è la possibilità di poter incrementare il numero dei ripiani successivamente all'acquisto proprio per la loro grande modularità. E le altezze tra i livelli sono anche personalizzabili. Ovviamente ripiani disaccoppiati grazie alle punte e appoggiano su pavimento con punte e sottopunte. La serie HW, come la serie S4 per la linea S, è praticamente pensata anche per il mondo audio-video, sia per dimensioni che per portanza dei ripiani. Veniamo alle finiture HY disponibile solo in nero, mentre HF, HW e HS ce li propongono in nero lucido, nero opaco e bianco lucido. La serie HF invece ha anche una serie Elite di finiture lanciata proprio in occasione del trentesimo anniversario della Solisteel, che ha pensato a tre nuove finiture in legno impiallacciato, noce, ebano o palissandro. E poi veniamo alla serie HP, la più prestigiosa della linea e quindi del marchio Solisteel. Infatti in questo caso tutto il telaio, compresi il disaccoppiamento dei ripiani, sono realizzati con punte Hyperspike. Mentre invece i ripiani sono una specie di pacchetto così composto. Sopra abbiamo della ceramica antigraffio. Mentre superficie inferiore in laminato ad alto spessore, tutto il bordo è chiuso con la resina e all'interno abbiamo del poliuretano espanso ad alta densità. Il ripiano è interamente laccato, ovviamente a parte la lastra superiore in ceramica. Finiture per questa serie, travertino naturale, elegantissimo e il classico nero. E qui ragazzi con i prezzi si viaggia. Ultimissima nota sul catalogo di questa azienda, che io trovo molto interessante, Solisteel propone una mensola a muro per supportare il vostro giradischi per chi avesse problemi di spazio. Abbiamo un telaio in lamiera di acciaio saldato ad una struttura di tubolari, sempre in acciaio, a sezione quadrata. Il ripiano MDF è sempre rifinito in laminato polimerico con spessore di 19 mm. A separare il ripiano dal telaio ci sono quattro coni regolabili che permettono la perfetta messa in bolla del ripiano. A me piace davvero molto utilità e discrezione. Attenzione però, come vi dico sempre, utilizzate i metodi di fissaggi più idonei sulle pareti più idonee. Bene, grande carrellata, anche un po' sintetica, perché bisognerebbe vedere questi prodotti davvero uno per uno, ma voi potete farlo, andate sul loro sito, che ovviamente come al solito lascio qua sotto nella descrizione del video, andate a vedere, è possibile anche richiedere il listino Italia corrente. Come al solito mi raccomando, qui sotto nei commenti scrivetemi quali sono le vostre opinioni rispetto a questa azienda italiana, totalmente italiana, tra l'altro la prima che ha iniziato a produrre mobili espressamente per il mondo hi-fi in Italia. Allora, buoni ascolti, buon arredo e ciao!